Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia si ritroveranno dal 6 all'8 maggio a Marina di Sibari in Calabria per il secondo raduno di primavera dell'Associazione Alcolisti Anonimi e dei gruppi familiari e amici di alcolisti. Sabato 7 maggio poi si terrà un incontro di pubblica informazione proprio sul ruolo dei gruppi e sulla loro funzione di strumenti di recupero. Salve sono Mena e faccio parte dell'Associazione Gruppi Familiari Alcolisti Anonimi. Qui a Castrovillari c'è un gruppo che si riunisce sabato pomeriggio presso la parrocchia di San Francesco alle ore 18. Alanon è l'associazione di cui faccio parte, è un'associazione di autoaiuto per i familiari e amici di alcolisti. Alanon offre una speranza di recupero a tutte le persone che soffrono per l'alcolismo di un proprio caro o di un amico. Il programma è basato sul programma di 12 passi attraverso il quale i familiari imparano a cambiare i propri atteggiamenti e comportamenti e a incanalare i propri sforzi ed energie nella giusta direzione. Vorrei anche dire, a parte le riunioni settimanali, che nei prossimi giorni del 6, 7 e 8 maggio, presso il Minerva Resort di Marina di Siberi, ci sarà un raduno sia degli alcolisti anonimi che dei gruppi familiari dove si discuterà del problema della malattia e si cercheranno riflessioni e condivisioni a riguardo. Invito tutti quelli che volessero rendersi conto di cosa si tratta a venire in quella sede. Salve, io mi chiamo Bartolo, sono un alcolista anonimo e faccio parte di questa associazione che è nata in America nel 35 e in Italia nel 1972. Attualmente sul territorio italiano ci sono circa 500 gruppi di autoaiuto, così ci definiamo, e in Calabria in particolare ci sono sei gruppi. Qui a Castrovillari comunque abbiamo il gruppo di alcolisti anonimi fondato una ventina di anni fa a cui ci si può rivolgere per tutti quelli che credono o pensano di avere un problema di dipendenza da questa sostanza. Quindi l'invito che io faccio è questo, è un'associazione che garantisce l'anonimato personale subito e che si basa su un programma di recupero e l'invito che faccio è quello di fare solo semplicemente un giro di prova da noi. Per me ha funzionato, dove altre cose non hanno funzionato, è un'associazione che ti accoglie e ti accoglie anche in maniera gratuita e ti ascolta. Ed è sempre solo la persona che viene da noi ad arrivare a definirsi un alcolista oppure no. La cellula principale è il gruppo dove tutto nasce, l'eventuale recupero. Quindi la mia esperienza personale mi induce a trasmettere questo messaggio che io ce l'ho fatta. Non è stato facile, ma con delle persone che già ce l'avevano fatta prima di me ho avuto un modello per cui percorrere una strada che è quello del programma dei 12 passi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!